Buongiorno. Buongiorno, direi. Guarda, ti sei spostato un attimo, ho potuto osservare una delle mie passioni, ti fu un cop-op alle spalle. Ah, madonna, sì, questi sono quattro o sei quanti, se non puoi vedere la mensola. Non vede la mia libreria, ecco. Ho un discreto problema, discreto. Sì. Quanti ne hai? Non lo so quanti ne ho, però ti posso dire che ogni volta che faccio un Natale o un compleanno se ne aggiungono un paio, quindi... È una malattia. Questi qua sono sei, ma dovrei contarli, secondo me, solo sono in camera mia in questo momento, sono trenta, quaranta, quindi... Guarda, ti svelo quello più grande. Non so se lo vedi sotto al tavolo. Oddio, è Yoda, no, è Baby Yoda. No, non vedo. È Vulpix dei Pokémon. Ma sto male. Sono proprio Baby Yoda, sono le orecchiette, non capivo. Comunque ne ho una settantina, più o meno. Ecco, no, c'è un discreto problema nerd di base. Sì, sì, infatti. Non so come risolverla, sinceramente. Non mi dire niente, non mi dire niente. Guarda, è stato il mio compleanno due giorni fa, mi hanno giusto giusto regalato Mercoledì Addams. Ah, bellissima, bellissima. Infatti mi è sembrato strano non averlo ancora acquistato. È vero, avendo questo stile musicale, diciamo, erano dei primi doveva essere. Ma guarda, è tipo un anno che dico, ogni volta che lo vedo, dico adesso lo prendo, adesso lo prendo. Poi dico, ma vabbè, dai, magari un giorno lo regalo, infatti. Ma poi sì, una che, come è quel personaggio, vuoi anche comunque tutta la collezione completa, quindi Mercoledì. No, certo, certo, no, no, ma io prima piacciono le collezioni strane. Sì. Quindi, per esempio, io sono una super fan di Star Wars. Oh, anche io. Quindi, essendo chiaramente una figlia di genitori fissati con Star Wars, essendo io degli anni 90, giustamente, proprio pieno, vecchi Star Wars, per cui io sono cresciuta proprio a pane a Star Wars, mio padre è ossessionato. E quindi, ovviamente, per me non esiste nessun dio all'infuori di Star Wars, tipo. Per cui, a un certo punto, io ho iniziato questo trend con questo mio vecchio amico dell'università. Sì. Per cui, anche lui, super fissato con i Funko Pop, per cui noi, a un certo punto, ogni anno, a Natale, lui è di Andrea, quindi non è che ci vediamo spessissimo. Ok, di Puglia. Sì, sì, sì. Giochiamo in casa, giochiamo in casa. Sì, sì, lui è di Andrea. E siccome, dopo l'università, non ci siamo più visti spesso, perché, giustamente, vuoi il lavoro, vuoi le cose, vuoi le città diverse, lui e me, noi ci mandiamo a Natale il regalo, ma noi sappiamo già che noi ci manderemo il Funko Pop. E la gara tra di noi è prendere quello più speciale, diciamo, no? In questo senso. Ah, dai, quali quali edizioni limitata. Eh, sì, sì, no. Allora, ne ho un paio, tipo di, tipo, non so come dire, sono quelli trasparenti, tipo. Ok, sì. Se sei presente, quelli che sembrano fluo, quasi, sono trasparenti. E poi ho una versione di quasi tutti i robottini, però natalizi. Ah, l'ho visto. C'è una roba folle. Ok. E poi alcuni sono, tipo, a forma di biscotto natalizio, come... adesso non ho visti quelle di Ramal. Sì, allora, adesso, questi che io ho sono, tipo, non so, hanno le corna della renna con le palline steccate. No, è una malattia, è una malattia. E che poi ne fanno tanti, anche dello stesso personaggio, tanti modelli, tanti tipi, cioè, soldi, avalenti. Sì, no, beh, ma io mi fissa, ma mi sono anche fissata con quelli che li tagliavano, che tagliavano le pelle. Ah, è vero, l'ho visto. C'era dentro un romino. C'era un fruco piccolino. Sì, sì, ma non ho il coraggio. Infatti il fruco vino ha rischiato, quello grande. No, no, è che non ho il coraggio io, non ho il coraggio. Sono troppo bello e non ho il coraggio, quindi farò finta che non c'è dentro niente. Sì, sì, secondo me è un fake, secondo me. Anche secondo me, però ogni tanto penso, no, devo scoprire questo misfatto. Certo, certo. Ci sarà un inside jokes da qualche parte, Nester Egg, da qualche parte. Sì, sì, sì. Infatti, perché poi quanto, appunto, c'è questa musica che prende poi gran parte della tua giornata, quindi riesci poi a sbariare su altre cose, appunto, come Funko Pop o altro. Allora, sì, io in realtà sono, appunto, come si poteva notare da questo discorso, in realtà sono una piccola nerd io, nel senso, anzi, io vivo tantissimo il rapporto con le cose materiali, gli oggettini, le collezioni. Mi piacciono tantissimo queste cose, forse ci sono cresciuta tanto, nel senso che, appunto, ho un papà che è fissato con queste cavolate, quindi... Hai un papà perfetto, diciamo. Sì, 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 no, no, il mio padre, cioè, ti faccio un esempio, appunto, c'è stato il mio compilano due giorni fa, mio padre mi ha regalato una spilla di Casper. Ok. Mio padre è uno di quelli che cerca le cose sui siti folli e mi regalano, non so, le spillette, le cose altre. L'anno scorso mi ha regalato due spillette che indosso spesso anche durante i live, uno è migliore e l'altro è prof. No, ma questo è introvabili, cioè, è impossibile. Sì, sì, quasi folli, quindi io praticamente sono nata sostanzialmente in un universo, per cui è abbastanza normale comprare la cazzata, cioè, quindi per me anzi. E poi sono cartoni tutti degli anni 90, quindi... Sì, 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 no, io sono oggettivamente figlia di tutte queste cavolate, poi ho un sacco di passioni su vecchi film, insomma, io sono molto fan del film horror, sono fan del vecchio film dottore. Ah, e vabbè, diciamo che poi richiama un po', sì. Sì, 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 quindi ho quella scuola un po' lì, per cui in realtà devo dirti la verità che quando non faccio, non lavoro con la musica, in qualche modo c'è sempre un po', diciamo, la sottotrama delle serie tv, dei film, ma io, poi in realtà, non so se era mai uscito, quando ci siamo parlati l'altra volta, ma in realtà io sono laureata in cinema. Ok, ok, adesso non ricordo, ovviamente, è passato... Eh, no, ma secondo me non è uscito, però sì, io sono di fatto laureata in cinema, quindi io avrei voluto fare la sceneggiatrice di serie tv, perché di fatto io sono sceneggiatrice. Poi, data, non ho capito bene, ma a un certo punto ho deciso che fare l'art director dei cantanti era meglio, non so bene. Ma non è abbandonata però come pista. Allora, guarda, non è che non l'ho abbandonata, la questione è che sono stata un po' sfigata, perché io mi sono laureata nel 2015 e non c'era ancora Netflix, non era ancora esploso, diciamo, in Italia, in questo senso, per cui il mio professore ai tempi mi disse, sì, tu scrivi molto bene, bellissimo, ma ti mando a fare le telenovelas. E io l'ho guardata e gli ho detto, sì, forse la traduzione di Beautiful non è la mia cosa. E quindi mi hanno detto, oh, te ne vai all'estero, ma non avevo i soldi e i tempi per andare all'estero a fare le serie. Perché comunque la parte tutta di sceneggiatura adesso è diversa, perché viviamo nell'epoca di Amazon Prime, tutte queste cose qua, e quindi sai, si stanno facendo un botto di produzione italiane, per cui dici, vabbè, c'è più margine, insomma, di entrare in un giro. Ai tempi c'era una roba assurda cercare di fare, dovevi fare una gavetta, che io a 50 anni ero ancora lì che cercavo di fare le bozze. Poi, devo dirti, io ho avuto un mentore che appunto era il mio insegnante ai tempi, che era tipo il massimo esperto di Hitchcock in Italia, tipo. E quindi era uno che, cioè, proprio lui voleva tiranni in mezzo, un vecchiettino super simpatico. Però io poi ho detto, guarda, la tengo come passione, è una roba che mi ha aiutato un botto anche a ragionare gli shooting, a scrivere video magari per gli artisti, eccetera, a pensare le mie cose. Però poi non so come dire, ho detto, forse devo lavorare, ma ho ben pensato di fare la musica, che mi sembrava una grande idea ai tempi per guadagnare, ma niente, è stato fallimentare, diciamo, in questo senso. No, è un peccato perché vedo che comunque c'è della passione anche su quel campo lì. Sì, io credo che, non penso che esisterebbe Casper se non ci fosse questo mio lato legato ai film. Cioè, penso che sia una parte fondamentale proprio della mia persona, nel senso, e poi in generale sono dell'idea che l'audiovisivo inteso proprio come film, serie, video, videoclip, eccetera, siano la cosa che forse più esprime l'estetica di un progetto, no? Ma in generale raccontano, secondo me, anche senza raccontare a livello di scrittura, no? È vero, è vero. Ma infatti, negli anni 90, qua MTV, cioè, era solo un strip. Sì, sì, ma infatti a me dispiace molto che non ci sia più quella cosa lì, perché vabbè, poi una volta tu la musica la conoscevi perché ti passava su MTV, almeno in Italia, fino a Canon, compravi dischi, ok? Però di fatto gli artisti stranieri li conoscevi perché aprivi MTV. Adesso è difficile spiegarlo ai ragazzi nuovi che vanno a vedere YouTube, vanno a vedere TikTok, però, cioè, non so come dire, era un approccio diverso, forse io sono un po' rimasta ancorata dentro nell'animo con la cosa lì. Anche io, anche io. Ma forse si riuscivano a gustare meglio anche le canzoni, perché con Spotify è un ascolto molto più veloce, quindi non riesci poi a concentrarti. Ma sai, poi non visualizzi mai, cioè c'è questa cosa strana, e te lo dice uno appunto che lavora con l'immagine, che in qualche modo, non so se ti è mai capitato di ascoltare delle canzoni e di non sapere mai che facciano gli artisti, perché le hai scoperte sulle playlist, no? E quindi molte volte questa cosa, secondo me, non ti fa mai associare il nome alla faccia e in generale all'artista. Poi magari un conto sono quelli che diventano un po' virali, che ti piacciono, eccetera, eccetera. Però invece MTV faceva questa cosa per cui tu avevi subito a fuoco il personaggio che avevi davanti, l'artista, eccetera, eccetera, no? Ed è una roba che un po' mi manca su certi aspetti, perché poi si ascolta tantissima musica, che è bello, per carità, è una cosa bellissima per me, avere l'opportunità di ascoltare moltissima musica da tutto il mondo. Una volta non era così facile ascoltare le cose, e forse era anche il motivo per cui non esplodeva neanche tanto l'Eurovision, no? Se vogliamo. Però, non lo so, c'è sempre questo... Una volta c'era questa magia un po' di riuscire a vedere un po' tutto nell'insieme, era un po' a 360, no? Anche perché poi nei videoclip uscirà sempre l'artista. Adesso nei pochi videoclip che escono, al momento, comunque su YouTube, non spesso c'è l'artista. È vero, è vero, no? Ma poi, secondo me, tra i budget, tra il fatto che bisogna fare la cosa fighetta, tra tutta una serie di cose, poi bisogna molto distinguere, secondo me, l'Italia dall'estero, nel senso che noi, secondo me, siamo ancora indietro su tantissime cose, no? Vorremmo essere esterofili, ok? Però poi dopo abbiamo un sacco di cose incastrate, no? Tipicamente italiane, no? Adesso sicuramente vedo degli upgrade, anche a livello di intensità visiva, di quello che c'è la proposta, però secondo me stiamo ancora un po' cioè rincorrendo una serie di cose estere. E poi abbiamo questa cosa che noi non riusciamo a scardinare, secondo me, ancora, che dobbiamo sempre etichettare tutto, noi abbiamo questa cosa che deve essere sempre tutto, quelle quattro cacchio di categorie di merda, non è dette, che non è possibile. Invece, cioè, all'altro, secondo me questa cosa è superata, ripeto, guarda, mi è capitato di recente di fare un discorso su Beyoncé, no? Sì. Per fare questo esempio, cioè, Beyoncé è una che potrebbe tranquillamente essere partita dall'R&B, adesso fa il country, sì, per vero. Io scherzavo l'altro giorno con un mio artista dicendo, guarda, io non mi stupirei se domani Beyoncé facesse il nome melodico napoletano, perché, cioè, lei in questo momento, come sono certi progetti all'estero, si possono permettere di fare di tutto e sono comunque credibili. Noi abbiamo sempre un filtro, non so perché, e questo è poi il problema, ma per cui dopo abbiamo pochissime playlist di sottogeneri, no? Che è in Italia. È un po' limitato anche Spotify da questo punto di vista. Ma mi dispiace sempre molto perché secondo me c'è il margine di fare le robe a 360, ma non riesci mai a farle fino in fondo, no? È vero, è vero. Ma infatti anche in Italia stesso, appunto, quando hanno ascoltato la canzone di Beyoncé, l'hanno criticata perché... Eh sì, certo, ovvio. Adesso vuole fare la Telo Swift della situazione adesso. Eh sì, sì, ma è chiaro, ma è come quando abbiamo fatto il cambio look della povera Billie Eilish. Sì, è vero, è vero. Però all'estero questa cosa è wow, è bellissima perché lei è credibile lo stesso, no? Mi piacerebbe moltissimo se questa cosa ci fosse in Italia perché ci sarebbe molto margine, secondo me, di fare tante collaborazioni interessanti, di fare musica nuova. Secondo me è un po' il nostro limite che ci chiudiamo sempre nello stesso target. O se siamo troppo criticoni. Sì, ma poi secondo me è che in discografia ci sono ancora tanti vecchi, nel senso, tante vecchie teste, non tanto di età, è proprio di approccio alle cose e secondo me ci limitano in questo senso. E tu come stai vivendo il tuo percorso artistico? Allora, bene, nel senso che io, forse un po' perché ci lavoro anche nel lavoro di tutti i giorni in questo senso, io quando ho deciso che dovevo fare Casper alla fine io ho detto voglio fare una cosa che piace a me. Cioè, voglio fare una cosa che prima di tutto deve rendermi contenta, devo dire delle cose che voglio dire, devo sfogarmi, voglio sfogarmi, voglio che arrivi me nella mia totalità, no? Ok. Anzi, io per lavoro devo essere sempre tutto ad un pezzo, no? Invece magari con Casper posso essere molto più fragile nelle cose, no? E mi permette un po' di... Io dico sempre che secondo me Casper sono più me di tante altre cose nel mondo, no? Nel senso che io riesco ad essere molto più me stessa quando faccio Casper che su tante altre cose, poi sicuramente il lavoro che hai però il lavoro è dedicato ad altri progetti quindi giustamente devi mettere un filo, no? Io la vivo bene anzi, mi sento fortunata con me stessa di viverla bene perché comunque vedo tanti artisti che la vivono malissimo, no? Perché comunque sai l'aspettativa a sapere che vuoi farlo come lavoro e la difficoltà di quello che è in mercato adesso e ti fa sempre poi arrivare a quel punto per cui tu non lo fai neanche più perché ti piace ma perché ormai è inerzia, no? Quella cosa io per ora mi sento fortunata perché mi sono obbligata in qualche modo a non vivere quell'angoscio del dover rispettare il mercato dover rispettare la mia persona cioè o non dover rispettare la mia persona in questo senso non so dirti se durerà all'interno in questo senso perché già vedo che ci sono comunque delle aspettative io dall'anno scorso comunque sono entrata in etichetta vabbè comunque V4V cioè mi stanno aiutando tanto ma dall'altra parte ovviamente si creano delle aspettative perché se il progetto cresce tutti ti dicono ah devi fare questo devi fare quest'altro eccetera eccetera cioè mi è capitato miliardi di volte di andare a fare live quest'anno e di sentirmi dire cioè invece che dirmi se è stata brava o non sei stata brava i discorsi tipo devi parlare di meno devi parlare di più devi fare questo ma se fai vedere che sei agile poi sembra che sei incompetente cioè sai poi quando cominciano a darti commenti sulla tua persona ha un po' il gioco che vale la candela più o meno per carità però non lo so io mi fa talmente tanto star bene provare a espormi rispetto a quello che sono i messaggi che voglio dare piuttosto che le cose che ho scritto che poi dico vabbè alla fine le persone penseranno sempre quello che vogliono poi di me si riesce a essere appunto meno freguisti su questo allora è difficile dipende sempre chi ti parla secondo me io che sono una persona incredibilmente autocritica ho fatto molta fatica all'inizio non tanto a non prendere la critica perché la critica a me mi piace mi gasa mi sprona sempre molto in questo senso sono carattualmente costruttiva sì 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 sono proprio una abituata anzi a volere il feedback da tutti i punti di vista mi spiace molto quando il feedback è umano e non critico nel senso è sul tuo gusto personale rispetto alla mia persona perché io ho lottato tanto secondo me nel tempo per non farmi dire dagli altri come devo essere no e quindi è molto difficile a volte quando anche persone a te vicine si permettono di dirti delle cose che invece vanno a scavalcare magari delle cose che per te sono tifragilità no poi io sono convinta che quando si parla di musica in qualche modo si parla sempre di consigli rispetto a come devi fare la performance piuttosto che altro e mi auguro che non siano necessariamente personali ma anche se anche lo fossero poi andrebbero affrontati in un altro contesto probabilmente anche perché poi in quel caso magari gli puoi semplicemente dire ma tu chi sei che può esatto però devo dirti di recente mi è capitato tanto che mi dicessero insomma come dovevo stare sul palco sai io ho un progetto un po' tristone quindi c'è questa c'è questa cosa per cui devi necessariamente essere silenzioso e triste quando sei sul palco però io alla fine penso che sono un progetto ancora piccolo al di là di quello che faccio nella mia vita lavorativa che chi conosce Rianna e chi conosce Casper però quando vai su un palco ti danno l'opportunità di aprire il concerto di qualcuno e non ti conoscono e tu hai davanti delle persone che non sanno chi sei è l'unico momento che hai sostanzialmente per far capire di te quello che vuoi io penso che alla fine sicuramente ci saranno 20 persone che mi dicono hai parlato troppo altre 20 che mi dicono potevi parlare di più però io alla fine sono là e ho quel banco di prova in quel momento lì per cui devo darmi quei 20 minuti per far capire a chi di fronte cosa devono capire del mio progetto della mia persona del mio progetto e se la mia persona il mio progetto è fragile io non ho problemi a nascondere il fatto che lo sia anzi ci tengo che venga fuori quella parte di me perché non me ne vergogno di questa cosa qua anzi ho fatto un progetto che di fatto parla alle persone molto fragili e io vorrei che questa cosa venisse fuori anche se mi balla la voce quando lo dico o anche se sono emozionata e cose del genere o se mi impappino se sbaglio una parola no? ok? io non credo che al pubblico piace secondo me poi sicuramente ci sono progetti che ambiscono sicuramente ad essere impeccabili io cioè li rispetto ci lavoro davvero mi capita di lavorarci con tanti artisti che sono super focus e hanno sicuramente la mia stima io lo sono a modo mio nelle mie cose per me è più importante essere focus su come deve arrivare il messaggio che non tanto sul fatto che ho fatto la performance perfetta non so se mi spiego no 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 infatti l'atto umano che è importante poi al pubblico piace sì sì io ho preso coscienza nel tempo di non essere un ugoladoro nel senso ma non ne ho sofferto parecchio perché io ho iniziato a cantare che avevo 14 anni e ho smesso perché dicevo ah non sono Beyoncé quindi che voerlo a imparare cioè inizio anni 2000 scusami cioè con mettere anche perché comunque inizio anni 2000 quando cantavi facevi quello se eri una ragazza non è che facevi molto o Laura Pausini o Beyoncé non è che c'erano molte altre speranze di vita e io che sono praticamente un baritona cioè era impossibile però no poi nel tempo invece ho un po' da apprezzare dove stavano le peculiarità della mia voce o della mia scrittura poi pieto degustibus come tutto cioè non non neanche ce ne sono chissà quante ma no ma poi guarda io ti dico nel tempo io cioè sono talmente tanto una perfettina su certe cose che poi cioè sono la prima che se scendo dal palco e visto che erano affatto ha sbirgolato io sono la che mi studio tutti i video di tutti quelli che mi fanno video su Instagram per capire dove ho cannato così la volta dopo la faccio meglio però non sono una che la vive male da quel punto di vista cioè nel senso ottimo non lo so penso che se devo arrivare arrivo se non riesco ad arrivare farò meglio magari la prossima volta ma non è detto neanche che sia una persona con cui devo comunicare non so come dire certo io so di avere un progetto un pochino di nicchia no e non mi aspetto di arrivare a tutti spero di arrivare umanamente questo sì e che si capisca questa cosa qua perché poi insomma i miei pezzi che scrivo sono quella cosa lì devono arrivare un po' devono toccare delle corde no e in qualche modo ti devi immedesimare forse quello del disco di prima magari era personale adesso quello che vorrei fare adesso cioè che sto cercando di far uscire insomma nei prossimi mesi non so da una parte è personale dall'altra è una storia che sto raccontando quindi vorrei che insomma ci fosse la possibilità che le persone si possano essere immedesimare secondo le loro storie poi no e poi è il bello della musica in qualche modo ci applichi la tua vita no in questo senso quindi vediamo vediamo quello che succede sì perché poi infatti il feedback riguarda appunto questa uscita perché poi è uscita questo singolo Janet con una collaborazione con una collaborazione un featuring come è andato con Cuni allora io e Cuni io e Cuni siamo molto amiche da tanto tempo in realtà era da tanto che in qualche modo volevo provare a creare una un gancio tra me e lei non ero sicurissima all'inizio perché facciamo due generi un po' diversi o siamo comunque allora siamo lo stesso mondo secondo me nel senso che poi l'alternative rock alla fine da questo punto di vista però sai lei scrive in inglese lei è molto più dolce nell'approccio è molto leggera e poi è eterea lei un po' come approccio mentre io sono un po' più grunge no? come suoni quindi avevo paura di metterla scomoda troppo all'inizio invece in realtà poi quando ho scritto questo pezzo qui in realtà io lo immaginavo solo ed esclusivamente con lei non avevo nessun tipo di altra persona in testa se non lei perché volevo che lei aggiungesse quella leggerezza che io magari non potevo cioè non avevo vocalmente o anche proprio nel modo di fare una melodia io ho un certo tipo di approccio alle melodie che lei invece ha le melodie molto strane molto particolari a volte io la prendo in giro scherzando ovviamente lei è un po' è sempre al limite della stonatura ma nel senso sai quelle tipo Alanis Morisette che hanno quel tipo di range vocale per cui hanno quella non so come dire stanno in un range è come arrivano al limite arrivano proprio al limite però è quella cosa là che rende la figata del modo di cantare che io mi casano di se essendo appunto degli anni 90 proprio c'è io ho esattamente quello cioè allo stesso risetto proprio di vita io quindi lei mi ha sempre un po' insomma è sempre stata che ci permette e ho detto no voglio assolutamente cercare di capire se riusciamo a unire queste due realtà ok che ha funzionato sì per me allora per me nel senso spero di sì sicuramente per i feedback che mi hanno ricevuto sì sono sicura che è arrivato quello che voleva arrivare il pezzo è un pezzo pesante in realtà che noi abbiamo provato a rendere il più leggero possibile a livello di ascolto ma è un pezzo che comunque ha una serie di momenti che in realtà sono poi molto risucchianti non so come dire cioè se ci presti attenzione un attimo non è sembra un pezzo leggerino in realtà poi dopo si capisce appunto qual è la trama secondo me poi è un po' un pugno in certi punti tant'è che i feedback che abbiamo avuti è di gente che si è messa a piangere sostanzialmente infatti cattura molto come brano ha quella specie di andamento un pochino allora sono contenta che tu dica questa cosa perché è una cosa che abbiamo ho insistito tantissimo e non è facile su un pezzo che in realtà è spoglio da un punto di vista di suono rispetto ai miei pezzi soliti che di solito sono costruiti insomma su un certo tipo di range di strumenti sono tanto pieni di solito e lui è un pezzo un po' è stato costruito veramente un pochino spoglio tanta che non ci sono troppi effetti vocali neanche su di noi io sono praticamente dry tutto il tempo volutamente perché lo volevo spezzato cioè volevo proprio una roba rotta in questo senso non lo so volevo che fosse vero dato che la tematica era molto importante per me e poi è pieno in realtà di altre collab perché poi sul coro ci sono più artisti che abbiamo chiamato io volevo persone che avevano qualcosa da dire ne avrei volute molte di più ma per tempistica non è stato fattibile poter gestire il coro ma avevo toccato dieci tra artisti che stimo e artiste che volevo chiamare perché volevo che fosse proprio un coro diciamo una proprio una cricca di persone che cantavano all'unisono volevo sì fare io l'ho chiamato coro manifesto no questo pezzo perché e forse proprio nella sua semplicità riesce a catturare e comunque forse forse sia quella cosa lì sì sì guarda sono in realtà sono contenta se arriva questo perché a volte io sono dell'idea che quando il pezzo è difficile a livello di trama lo devi lo devi spogliare no non mi piace che sia un peso ulteriore perché secondo me ci sono delle cose che sono già importanti così come sono no e non ho infatti l'unica cosa che appunto è stata aggiunta è stato il coro perché il coro aveva un senso rispetto a quello che volevo fare nel se riuscirò a presentare appunto il release del disco mi piacerà averlo effettivamente mi piacerà avere le persone che hanno partecipato il coro magari vorrei che fosse un mega abbraccio questa cosa in un certo senso quindi è stato molto bello vedere artisti che stimo artisti che stimo prendere parte così proprio col cuore a questa cosa e noi non ci siamo neanche incontrati in studio è stato bello mi hanno mandato le loro cose ognuno di loro ha interpretato la sensibilità di quel pezzo anche soltanto per quella frase è stato bello costruirlo questo pezzo ci tenevo moltissimo non è un pezzo facile perché non è un pezzo che sta negli standard commerciali diciamo della cosa non ha quel traino lì però non mi interessa io lo volevo cioè mi sono azzardato a buttarlo fuori ci tenevo penso che sia importante dire delle cose oggi se puoi farlo e la musica se ti permette di dire delle cose importanti secondo me e la puoi sfruttare io penso che sia il momento per fare questa cosa è stato un caso che poi è stato l'anno un po' di Giulia Cecchettin per assurdo è un pezzo che in realtà è più o meno pronto da un anno quindi in realtà quando è uscito il caso di Giulia è stato un po' come un segnale che forse era proprio il momento ancora di più di denunciare delle cose poi in realtà è appunto una denuncia su tanti tipi di violenza noi ne vediamo però il caso di Giulia in qualche modo ha acceso un po' tutti nell'idea del coro manifesto da questo punto di vista e io ho detto appunto avevo bisogno che questo pezzo uscisse tant'è che se ci hai fatto caso è uscito il 15 e non l'8 di marzo e io non so l'ho proprio ragionato in un contesto per cui secondo me bisognava ancora di più calcare la mano spero tanto che adesso spoiler uscirà il video in Italia abbiamo fatto un mini video molto carino ma molto intenso anche lui e io non lo so spero che davvero di questo pezzo vorrei che arrivasse più che me e Cuni vorrei che arrivasse davvero quello che sta dietro il fatto davvero di quanto ci dobbiamo sporcare davvero di sangue per riuscire a cambiare le cose in questo universo per me ma anche poi la forza di essere guarda secondo me è un brano coraggioso per me è vero è vero perché secondo me è la forza di essere un po' uno e centomila no? quella storia lì è anche la forza di dire va bene mi hai fatto male mi hai distrutto mi hai ammazzata mi hai ucciso ma io sono fiera di come sono esisto ok? la voglia di esistere in un certo senso poi ha quel risvolto lì o lo volevo in quel risvolto lì non è mai facile comunque portare un messaggio del genere perché appunto come ti ho detto anche forse nell'altra intervista è sempre più facile parlare di amore di storie romantiche ma raccontare questo non è mai facile perché poi devi usare anche le parole giuste per raccontare sì ma guarda ti dico adesso purtroppo ancora sono usciti pochi pezzi quindi secondo me è ancora una storia che va sviluppata però sono già in una fase del progetto dove posso più o meno snocciolare un pochino del disco il disco ha una tematica fortissima che è proprio il coraggio di essere ed è una tematica che secondo me va oltre essere l'amore va oltre insomma le cose sociali che succedono eccetera eccetera è proprio secondo me il cioè nonostante tutte le cose brutte belle che esistono il fatto di cioè di essere contenti di essere non so come dire di esistere di starci no io su questo disco in realtà racconto due storie parallele no una è la mia nel senso la mia in quanto ragazza di nel mondo che ha che vive in una società in questo senso in parallelo alla storia di una ragazza del 1600 che ha avuto una serie di vicissitudini no ok e me la sono immaginata io sono immaginata questa ragazza come una sorta di Giovanna d'arco che viene catapultata nel 2024 e si rende conto che nonostante gli anni siano siano tantissimi in mezzo no che il divario a livello di anni è tanto la società esatto si ripete in continuazione ci sono degli stilemi che sono sempre gli stessi no e mi sono chiesta che cosa poteva provare una persona del passato una donna o comunque una persona forte a stare in un contesto in cui cambiano le mode ma non cambia mai il vizio della cosa dell'atteggiamento delle persone e secondo me la difficoltà di questo disco poi è far passare quel messaggio lì no perché è più facile che ti arrivi la storia della ragazza X che ti arrivi la storia d'amore che ti arrivi la violenza che ti arrivi in una serie di cose che sono importantissime però secondo me cioè quello su cui sto insistendo tanto è davvero che arrivi quella cosa lì cioè è importante che tutti noi sappiamo che esistiamo ed è giusto che esistiamo non so come dire nel contesto poi è difficile ma ci provo ci provo e poi alla fine dei conti quello che vuoi dire alla fine ci sono gioie dolore l'importante è poi continuare a vivere e provare sempre nuove emozioni che siano belle che siano magari meno belle sì 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 esatto esatto quindi guarda per chiudere l'intervista perché altrimenti zoom mi bestemmia perché già mi ha scritto da oggi che terminerà tra dieci minuti mi ha detto sì sì qua vedo otto minuti c'è il countdown allora come domandone appunto già mi hai detto che ci sono dei progetti in ballo quindi questo 2024 sarà pieno di tante sorprese sì ci vorremmo di sì sì invece quali sono i tuoi sogni obiettivi magari di quest'anno guarda sembrava scemo ma in realtà io vorrei proprio riuscire a trovare un momento raccontare questo disco come lo voglio raccontare vorrei proprio trovare una situazione dove fare una sorta di festa chiamiamola così dove presentarlo e vorrei riuscire a farlo come voglio perché vorrei che arrivasse quel mondo cioè vorrei portare il mondo di questa ragazza del passato qui cioè in questo senso ho in mente nella mia testa è già tutto strutturato vorrei riuscire a organizzarlo davvero così come lo penso ma sai dipende sempre dai budget e dalla vita da tutta una serie di cose ne parliamo di riuscire a costruire questa cosa qui perché mi piacerebbe portare le persone nel mio mondo in questo modo non l'ho ancora fatto come lo vorrei e penso che questo disco abbia bisogno di questa cosa in questo modo poi vedremo però se ho un sogno in questo momento è questo e poi mi piacerebbe appunto riuscire a suonare anche un pochino più in giro non solo diciamo nelle zone limitrofe perché voglio voglio vedere gente voglio conoscere noi non vediamo l'ora di vederti live quindi anche in Puglia magari guarda ma cosa sai che ho scoperto che ho un sacco di una grande fan base al sud ma non so per com'è possibile ho scoperto di averne un botto nelle marche già la quarta volta che mi dicono suoni nelle marche ma io non cioè come ci arrivo anche perché poi magari un motivo per trovare magari l'amico tuo di Andrea ma guarda infatti assolutamente sì assolutamente no mi piacerebbe molto io sicuramente vorrei provare a organizzare una sorta di mini tour sai non è sempre facile perché per le spese perché puoi spostarsi quello che è da Milano però se riesco davvero mi piace molto adesso spero quest'anno sarà difficile ma spero sull'anno prossimo anche di fare qualche festival il mio sogno sogno sarebbe riuscire a suonare all'estero qualcosa fare delle collaborazioni estere perché ci tengo poi io ho un progetto che è strutturato musicalmente come cose più estere che italiane da questo punto di vista quindi CUNY è stato un po' anche una scelta per me in quella direzione ok potrei avere un feat prossimo che spero di riuscire a chiudere con un progetto estero perché mi piacerebbe molto ma vedremo Beyoncé beh secondo me guarda Beyoncé se fa l'emo abbiamo risolto abbiamo concluso manca quel genere a Beyoncé ma secondo me potrebbe farlo benissimo me la immagino sicuramente il tuo genere viene apprezzato molto più all'estero che in Italia io ho qualcuno che mi scrive ogni tanto da fuori però sai sono un po' sporadici però è bello è bello sapere che in qualche modo anche fuori si percepisca cosa sto facendo perché sai l'Italia ha sempre molta difficoltà ad andare fuori i maneskini un po' hanno aperto le porte però poi secondo me se la sono giocata scrivendo in inglese quindi non è che è andata cioè potevano farla in italiano avremmo risolto però no secondo me sì io ho sicuramente delle reference talmente tanto palesi sul anglofone che in qualche modo sicuramente le sonorità piacciono vedremo vedremo speriamo bene facciamo le dito ovviamente ma sì dai mi farò sapere se sbarco come Fibble sbarca in America ti seguirò ti seguirò è ovviamente un grande piacere averti qui come sempre anche per me ho parlato di tutto spero che arrivi il tuo messaggio spero che arrivi la tua persona perché a noi piace così cioè vederti comunque umana sensibile grazie si riesce poi a gustare ancora meglio il messaggio che vuoi lanciare nei tuoi brani grazie e io sono io sono questa faccio molta pratica ad essere molto non cambiare mai non cambiare mai quindi sarà sempre così non cambiare mai ti ringrazio allora grazie a te tantissimo e a presto direi sì sì a presto ciao 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 ciao